Quest'anno è una stagione importante perché ricorre anche il ventennale della fabbrica. Vent'anni e non dimostrali, ci sentiamo ancora giovani, abbiamo ancora voglia di fare, di impegnarci, abbiamo ancora tanto entusiasmo e tanto entusiasmo ce l'abbiamo messo anche nella presentazione e nella preparazione della nuova stagione teatrale che avrà dei momenti importanti, in modo particolare con la presenza di attori di un certo livello. Su tutti segnalo subito Stefano Accorsi che sarà con noi a gennaio, mentre l'apertura sarà affidata il 19 ottobre a Ambrangioini e Matteo Cremon con la guerra dei Rosis. Per proseguire poi con D'Apporto che per lui si tratta di un ritorno alla fabbrica con un borghese piccolo piccolo e anche per Alessandro Haber che porterà il padre insieme a Lucrezia Lante della Rovere nel mese di dicembre. Avremo uno spettacolo in più per i nostri abbonati in omaggio, proprio per il fatto che ricorre il ventennale, sarà un musical molto importante in collaborazione con gli amici per un sogno di Gravellona e Omegna. Per quanto riguarda Accorsi, dicevo, sarà con noi a gennaio e dopo Accorsi avremo il ritorno anche di Angela Finocchiaro con Calendar Girl, di Maria Amelia Monti che porterà un giallo di Agatha Christie, Miss Marple e il gioco di prestigio. Molto divertente invece saranno gli spettacoli con Sergio Assisi, l'ispettore Drake, Il Delitto Perfetto, una comedia molto comica. Brillante l'ultimo evento della stagione Hollywood con Antonio Catania, Gigi Alberti, Gianluca Ramazzotti che ripropone un po' quella che era la vera storia, in chiave anche divertente, della preparazione a Hollywood del film Via Colvento. Poi le serate speciali fuori abbonamento, le Ball, il 5 novembre, ovvero la storia d'Italia dal 1940 al 2001, l'anno delle Torri Gemelle, raccontata attraverso la musica e il ballo. Il ritorno di Manuel Frattini il 5 gennaio con il musical Robin Hood e il Lago dei Cigni il 10 marzo. Già aperta la prevendita per i legnanesi che saranno a Villa Dossola il 30 settembre. In occasione del ventennale non mancheranno appuntamenti che coinvolgeranno le realtà artistiche che gravitano attorno al centro culturale. Novità di quest'anno, i biglietti per gli eventi che la fabbrica propone saranno acquistabili anche online.